Un concessionario di Olbia specializzato in auto di lusso usate è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per evasione fiscale. Secondo le indagini condotte dai finanziari del comando provinciale di Sassari, l'uomo avrebbe occultato al fisco 4,5 milioni di euro e non avrebbe versato IVA per 400 mila euro. L'uomo, residente nel sud Sardegna, avva la concessionaria nella città galurese per occuparsi del ricco mercato delle auto di lusso in Costa Smeralda, ma l'attività si estendeva a tutta la Sardegna e al nord Italia. Dalle indagini delle Fiamme Gialle, infatti, è emerso che le supercars erano vendute irregolarmente in diverse aree della Sardegna e della penisola. I militari hanno sequestrato otto auto di lusso, tra queste una Ferrari F430, una Lamborghini Gallardo, una Porsche Boxster, due Bentley Continental e una moto MW Augusta. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Cagliari e Mergarda Ferrarese su richiesta del Pubblico Ministero Maria Virginia Boi. Secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, dalle Fiamme Gialle, il concessionario, pur adempiendo regolarmente agli obblighi fiscali, nelle dichiarazioni del reddito indicava gli importi non corrispondenti all'effettivo volume d'affari dell'azienda. Le indagini finanzieri proseguono perché all'appello mancano altre auto di lusso.